Senti Zichichi, oggi pomeriggio puoi passare a prendere Melissa a scuola e la porta alla danza per piacere? Allora, io non sono lo scia di Puglia, io devo andare a lavorare, dobbiamo portare a casa i soldi qua perché fra cani da rodeo, palati in plutonio e viaggi in dervici, non ci arriva la fine del mese. Se non vedevamo la casa di mia mamma, adesso non avrebbero veramente messi male, te lo dico io. E tu sempre ai soldi pensi? E quello devo fare. Ma no, tu devi pensare ad altre cose, tu devi pensare ad avere un rapporto con i tuoi figli, devi pensare ad avere un dialogo con i tuoi figli, devi far capire chi è che porta i pantaloni a casa e che dentro i pantaloni ci sta qualche cosa. Lo sai come ti chiamano i figli quando tu non ci sei? Come? Utremona. Utremona me.